Siamo qua con i nostri Pulcini 2003-2004, Pulcini misti piccoli amici, dopo la partita con la Meridiana è andata abbastanza bene, si sono divertiti e vediamo qualche commento, partiamo dal più piccolo, 2005, Mattia, com'è andata la partita? Bene. Bene come? Hai fatto belle parate? Sì. Sì? Eh, quante parate hai fatto, te le ricordi? Sì, 12. 12-13, dice Angelo. Quante Aldo? Io ho contato 26. Secondo te il migliore in campo che è stato Aldo? Eh, Angelo. Angelo, Angelo, parliamo di Angelo, Angelo quanti gol hai fatto oggi? Sei. Fortunato. Sette. Sette. Ma sei stato fortunato? No. Sicuro? Daniele, tu che pensi di Angelo? Eh, penso la stessa cosa. Che hai stato fortunato? Fortunato, ho fatto un bardonetto. Eh, tu invece oggi come hai giocato, hai segnato pure ho visto? Sì, sì. Il bardonetto che gli ho fatto colpa, è il portiere. Bravissimo. Ma il portiere com'era il portiere? Era scasso. Non è vero, ed era bravissimo, è stato il migliore in campo di loro, penso. Graziano, è stato eccezionale. Graziano, tu che sei 2003 bello cresciuto e pasciuto, com'è andata la partita? Bene. Ti sei divertito? Sì? Sì. Hai fatto gol? Quattro. Cosa pensi del mister Michele? Qua è? Lui? È il mister. Bene, 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 tutto a posto. Simone, te in difesa com'è andata? È stata faticosa la partita? No. No? Facile? Sì. Ah, meno male. Hai fatto gol? No. Perché sei un difensore. Sì, ma il portiere è... Passiamo a Matteo, protagonista anche se è arrivato in ritardo. Matteo, com'è andata la partita? Bene. Ti sei divertito? Sì, molto. Sì, molto? Che rispondi tu per lui? Matteo, cosa pensi di Daniele? È scemo. Un pochettino, no? Allora, vi siete divertiti tutti quanti, vero? Sì. Sicuri? Sì, sì. Fate un bel saluto, un bel grido. Sì. A posto, ci vediamo alla prossima partita.